Benvenuti cari followers, questa notte, lunedì 26 febbraio 2024, e tra poche ore, sull'Italia si abbatterà un fortissimo temporale, accompagnato da forti piogge e abbondanti nevicate, con rischio di allagamenti. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci premendo il pulsante Mi piace per questo video per motivarci a continuare e fornire il meglio per voi. Se, come vedi sulla mappa, c'è un temporale molto forte che colpirà le regioni del nord e del centro Italia questa sera, lunedì 26 febbraio, e sarà accompagnato da piogge molto abbondanti, accompagnate da grandine, con rischio di alluvioni improvvise e anche possibilità di nevicate in alta montagna. Della Liguria, Valle d'Aosta, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, con piogge molto forti in entrambi Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marcheumbria, Lazio. Questo forte temporale continuerà ad interessare l'Italia almeno fino a giovedì 29 febbraio. Cercheremo di comunicarvi eventuali altre novità importanti in seguito.